Il Leonardo è legato ad un letto, le braccia segnate dai tagli che si è inflitto da solo. Alla testa ha una serie di elettrodi, perché siamo alla fine degli anni 70 e l'elettroshock nei manicomi, soprattutto quelli criminali, si usa molto di frequente. E poi c'è un uomo, Tommaso si chiama, Masino per gli amici, Don Masino, anche se in quel momento di amici Don Masino ne ha pochi. È una giornata di luglio del 1984 e Don Masino è in aereo, fermo all'aeroporto di Fiumicino, dove è appena atterrato. Aspetta che siano scesi tutti i passeggeri e poi si alza ed esce anche lui, accompagnato da due uomini che sembrano sorreggerlo. Portano occhiali scuri come lui, ma Don Masino ha anche una coperta, una specie di poncio colorato, che tiene sulle braccia. Quella coperta, a Don Masino, serve per nascondere le manette che gli stringono i polsi. E poi c'è un altro uomo ancora. Si chiama Salvatore e assieme ad un altro uomo sta seguendo un prete. Sotto al giubbotto Salvatore ha una pistola, perché deve fare una cosa a quel prete, Salvatore. Deve ammazzarlo. E infatti il prete attraversa la piazza e loro diedono. Poi l'altro uomo gira, taglia la strada al prete e lo ferma, mentre Salvatore estrae la pistola e gliela punta alla nuca. A quel punto però il prete fa una cosa strana. Si volta, guarda Salvatore che sta per sparargli e gli sorride. Doveva morire. A cosa non ci interessava questa persona non ci fosse più perché creava troppi problemi. Però nel suo tempo non voleva indirizzare, non so se anche per l'opinione pubblica stessa, indirizzare l'omicidio verso gli autori di Cosa Nostra. Quindi fare in modo che un drogato, a rapino, a borsello, è partito un colpo. Sono tutte storie che vengono dallo stesso mondo. Un altro mondo che si chiama Cosa Nostra. Questa è la storia dei pentiti di Cosa Nostra. Questa è la mafia che parla. A me dispiace invece che coloro che dovevano capire non capivano. Perché io volevo essere fermato prima. Non volevo arrivare a fare tutto questo per essere fermato. Se lei sa quello che ho fatto io, dovrebbe fare scalpore che io l'ho fatto tutti da incensurato. Da incensurato. Io l'ultimo reato l'ho fatto da incensurato. Poi quando Pasquale Di Filippo disse, che è collaborato, disse chi era colui che sparava a Palermo e provincia, ecco che si è saputo di me. Per ascoltare la mafia che parla per la prima volta, bisogna andare molto indietro nel tempo. Quando i pentiti non si chiamavano ancora pentiti, neanche i collaboratori di giustizia. E neanche Cosa Nostra si chiamava così. Si chiamava ancora mafia, con due F. E nessuno sapeva bene che cosa fosse. Però faceva benissimo quello che fa anche oggi. Controllare il territorio. Immischiarsi in affari leciti e illeciti. Condizionare la politica. Uccidere. Per poter parlare di un vero e proprio fenomeno e la collaborazione con una sua consistenza, dobbiamo aspettare il secondo dopoguerra. Quando abbiamo nel 1963 la dichiarazione di Giova Laki all'FBI, le confessioni di Nick Gentile e poi appunto i collaboratori di giustizia di Cosa Nostra. E il primo collaboratore nel 1973 è Leonardo Vitale, che non fu creduto, fu considerato un pazzo. Io mi sento un malpantito. Però non è che sta a me dirlo. Cioè ci sono delle persone esperte che possono dirlo con più certezza. È la sera del 30 marzo 1973. Negli uffici della squadra mobile di Palermo c'è un uomo che ha chiesto di parlare con il dirigente, il dottor Bruno Contrada. E poi ha continuato anche davanti al magistrato, il giudice istruttore Aldo Rizzo. Lo ascoltano tutti con grande interesse e grande sorpresa. L'uomo si chiama Leonardo Vitale ed è un mafioso. Fa parte della famiglia di Altarello di Baida, una borgata di Palermo, che è retta da suo zio Giovan Battista, detto Titta. È nella sua zona che nel 1971 viene assassinato il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, assieme all'agente di Scorta, Antonio Lorusso. Leonardo ha fatto strada nella famiglia. Quando aveva 17 anni, lo zio Titta, per vedere se aveva fegato e se ci si poteva fidare di lui, lo aveva portato in campagna, gli aveva dato una pistola e gli aveva chiesto di uccidere un cavallo. Sì, ci si può fidare. E così, a 19 anni, lo zio Titta gli fa uccidere il primo uomo. Lui, 17 anni, cosa provare? Le aveva riuscite un cavallo e poi magari mi affascinava. E poi quando uccise invece quel tale che ha detto? Quella è un'altra cosa. Leonardo ha fatto strada nella famiglia mafiosa, ma adesso non ce la fa più. Senti il bisogno di liberarsi la coscienza e vuole parlare. Ecco, Leonardo Vitale è il primo vero pentito nella storia di Cosa Nostra. Pentito nel vero senso della parola, che prova rimorso e rincrescimento. Che non ritrova più la propria identità nei valori della famiglia mafiosa. A differenza dei soliti confidenti, quando parla, Leonardo Vitale non rischia di essere ammazzato e non rischia di essere arrestato. La sua collaborazione deriva da un senso di profondo smarrimento, da una vera e propria crisi religiosa. Così Leonardo parla. Si autoaccusa di un paio di sequestri di persona, di estorsioni e anche di due omicidi. Fornisce le prove di quello che dice. Ha ammazzato Peppino Bologna, un costruttore edile che appartiene alla mafia, con due colpi di lupara dall'alto di un muretto. Racconta dettagli che può conoscere soltanto l'assassino. Come per esempio che per sparare è salito su una scaletta che non aveva notato nessuno e che invece si vede benissimo nelle fotografie del luogo del delitto. Leonardo parla, ma non parla soltanto di sé. Parla di Cosa Nostra, dei segreti che ha saputo, come il rapimento e l'omicidio di quel giornalista di Palermo, Mauro De Mauro, compiuto dalla mafia. Parla di tangenti, di rapporti con la politica, con il comune di Palermo. Parla del sindaco Vito Ciancimino. Parla anche di una commissione a capo di Cosa Nostra. Fa i nomi di Stefano Bontade e di Pippo Calò. E parla anche di alcuni personaggi in particolare, questi corleonesi, questo Totò Riina, che allora è ancora quasi uno sconosciuto, ma che vuole diventare il capo della mafia. Tre settimane dopo aver firmato il verbale, mentre rinchiuso nel carcere del Lucciardone, Leonardo Vitale viene sottoposto ad una perizia psichiatrica per ordine del giudice e istruttore Rizzo. Un collegio di psichiatri lo giudica a semi-infermo di mente, affetto da schizofrenia e in preda ad una crisi religiosa. Ne si considera barato o si considera santo? Eh beh, quello che dico io non è che può avere molta importanza. Che io posso dirmi a dei luminari della scienza, e dico io, io mi sento bene, mi sento una persona normale. Ma quando parla di Cosa Nostra, dicono gli psichiatri, Leonardo Vitale è lucidissimo e quello che racconta è del tutto attendibile. Così, il processo sui fatti raccontati da Leonardo Vitale inizia nel 1977. Per tutto il tempo, Leonardo viene tenuto in carcere e nella gabbia di sicurezza del tribunale, assieme alle persone che ha accusato. Gli avvocati della difesa si appellano a quella perizia psichiatrica per demolire le accuse di Leonardo. Altre indagini, sulla base di quello che ha raccontato, sui rapporti con la politica e sugli altri personaggi, non vengono fatte. Alla fine, gli unici ad essere condannati sono lo zio Titta e Leonardo. Undici anni tra carcere e manicomio criminale. Prima quello di Barcellona Pozzo di Gotto e poi quello di Reggio Emilia. Terapie, trattamenti, elettroshock legato al letto con le cinghie, con sulle braccia i tagli che si è procurato da solo durante le crisi. Alla fine del 1984, Leonardo viene dimesso dal manicomio e rimandato in Sicilia, in domicilio coatto. Lei parlò, lei ebbe il coraggio di parlare. E io il coraggio ne ho avuto sempre poco. Ne ha avuto poco? Perché? Lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio. Eh? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò, semmai ha potuto dimostrare pazzia. Il 2 dicembre 1984, Leonardo Vitale sta tornando a casa dalla messa a cui è andato assieme alla madre e alla sorella, quando un uomo gli si avvicina e gli spara due colpi in testa. Qui finisce la storia di Leonardo Vitale, il primo vero pentito di Cosa Nostra. Quando viene ucciso, sono passati dieci anni dalla sua collaborazione. La mafia sa aspettare. Anche tanto tempo, è vero. Ma forse il motivo è anche un altro, perché quelli sono anni molto particolari. Sono gli anni Ottanta. Giovanni Falcone e gli altri magistrati del pool che estruirà il maxiprocesso a Cosa Nostra, infatti, nella sentenza di rinvio a giudizio di centinaia di mafiosi, parlano anche di Leonardo Vitale. Dicono che è augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava da vivo. Sì, perché tutto quello che Leonardo Vitale aveva detto nel 1973, anni dopo, negli anni Ottanta, trova conferma nelle parole di altri pentiti. Allora, la mafia aveva parlato, ma nessuno l'aveva ascoltata. Adesso Cosa Nostra parla e trova qualcuno che la ascolta. Per l'età degli anni Ottanta, il fenomeno della collaborazione con la giustizia acquista uno spessore diverso. Non si tratta intanto più soltanto di casi sporadici ed isolati, non si tratta più soltanto di singole confidenze con singoli soggetti e le forze dell'ordine, ma si tratta di una vera e propria fuoriuscita dal mondo di Cosa Nostra. Tutto comincia con un altro mafioso che diventa un confidente della polizia, Giuseppe Di Cristina, che regge la famiglia di Riesi in provincia di Caltanissetta. Molto potente, membro della commissione, con buoni agganci in politica, a metà tra un colletto bianco e un uomo d'azione. Giuseppe Di Cristina, però, si è messo contro i Corleonesi, che nel 1977 cercano di ammazzarlo. Speronano la sua auto in campagna, la bloccano e cominciano a sparare, ma dentro ci sono soltanto due delle sue guardie del corpo. Allora Di Cristina decide di collaborare con i carabinieri e approfittando del fatto che deve andare ogni giorno a firmare in caserma, parla con il capitano Alfio Pettinato e gli racconta i progetti dei Corleonesi, con lo scopo di indebolirli, farli arrestare e salvarsi così la pelle. Non ci riesce, perché il 30 maggio 1978 un gruppo di fuoco dei Corleonesi lo uccide. Il rapporto del capitano Pettinato con le confidenze del boss di Cristina, invece, finisce in un archivio e là resta per un sacco di tempo dimenticato. Poi il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Cesare Terranova, viene ucciso per ordine di Totò Rigio. Nel settembre del 79 un gruppo di killer apre il fuoco contro l'auto del giudice uccidendo lui e il suo autista, il maresciallo di pubblica sicurezza Lienin Mancuso. Il progetto di uccidere il giudice era proprio una di quelle cose che di Cristina aveva raccontato nelle sue confidenze. Al posto di Cesare Terranova arriva un altro giudice istruttore che si chiama Rocco Chinnici. Perso tra le carte del Tribunale, il giudice Chinnici trova il rapporto del capitano Pettinato, il rapporto insabbiato, lo chiama lui stesso. e lo affida ad altri due investigatori, il vicequestore Ninni Cassarà e il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo. A Palermo hanno ucciso un magistrato e due carabinieri facendo saltare con il telecomando un'auto carica di esplosivo a pochi passi dalla casa dalla quale questa mattina il magistrato usciva per andare al lavoro. Il giudice Chinnici il vicequestore Cassarà e il capitano D'Aleo verranno tutti uccisi da Cosa Nostra lo sappiamo ma questo non ferma la battaglia contro la mafia. Le notizie raccolte sulla base di quel rapporto vengono elaborate dal pool di magistrati che il nuovo capo dell'ufficio istruzione Antonino Capponnetto ha costituito. Giuseppe Di Lello Leonardo Guarnotta Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Il pool lavora in stretto contatto con l'ufficio dei sostituti procuratori che dovranno occuparsi del processo. Quando noi abbiamo cominciato il nostro lavoro insomma con questa formula inedita cioè del gruppo di lavoro chiamato comunemente del pool antimafia devo dire la verità che a tutto pensavamo tranne alla ipotesi che potessimo avere dei collaboratori di giustizia e invece ai primi anni 80 quasi in coincidenza con l'inizio col decollo diciamo del pool antimafia cominciamo a avere un primo e poi un secondo collaboratori di giustizia diciamo minori nel senso che avendo all'interno di Cosa Nostra non un ruolo eccelso raccontavano i fatti criminali che conoscevano. Poi succede qualcosa arriva il boss dei due mondi arriva Tommaso Buscetta detto Don Masino Tommaso Buscetta diventa un mafioso a vent'anni quando entra nella famiglia di Porta Nuova il boss Tanno Filippone ha notato questo ragazzo che gestisce lo smercio clandestino di tessere per il pane nell'immediato dopo guerra e l'ha ritenuto degno di diventare un mafioso Tommaso Buscetta diventa presto il punto di riferimento di un traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge l'Italia gli Stati Uniti il Brasile e il Messico Buscetta era un personaggio shakespeariano un uomo di grandi passioni un uomo violento estremo nello stesso tempo molto intelligente tutti i mafiosi che ho conosciuto sono gente mediocre scadente la cosa che uno si domanda quando li conosce personalmente ma come è possibile Buscetta no Buscetta non era un piccolo uomo non era un piccolo uomo e lo ha dimostrato in tutta la sua vicenda Don Masino resta un boss anche in carcere viene arrestato nel 1970 nell'ambito della French Connection che mette assieme Cosa Nostra e clan dei marsigliesi nel traffico della droga finisce in carcere a Lucerdone a Palermo dove viene trattato come un re con ampia libertà di manovra e i pasti serviti direttamente da uno dei migliori ristoranti della città quando esce in semi libertà scappa in Sud America e ricomincia col traffico di droga però c'è un problema c'è la guerra c'è la seconda guerra di mafia che oppone i corleonesi di Totò Riina alle altre famiglie mafiose nel tentativo di ottenere l'egemonia di Cosa Nostra Don Masino ha evitato la prima guerra di mafia quella degli anni 60 perché si trovava all'estero ma questa no questa mattanza questa carneficina che in 5 anni dal 78 all'83 fa più di 1000 morti questa non la può evitare Don Masino fa parte dello schieramento sbagliato quello delle cosiddette cosche perdenti di Stefano Bontade degli Inzerillo dei badalamenti e dei loro alleati i corleonesi lo cercano per ucciderlo ma lui è all'estero ben nascosto e ben protetto e allora uccidono i suoi parenti in una logica di vendette trasversali ma anche di puro e semplice terrorismo Bucetta aveva due figli maschi a Palermo che con la mafia non c'entravano niente ammazzati tutti e due Bucetta aveva un genero il marito della figlia ammazzato poi gli ammazzavano pure un fratello e il figlio del fratello in totale i familiari di Don Masino tra parenti diretti e indiretti uccisi dai corleonesi sono 14 poi nell'ottobre del 1983 la polizia brasiliana fa irruzione nella villa di San Paolo in cui Don Masino si è nascosto e lo arresta su esecuzione di un mandato internazionale spiccato dalla magistratura italiana il 15 luglio 1984 con la coperta sui polsi il poncio colorato che copre le manette Tommaso Bucetta Don Masino il boss dei due mondi arriva in Italia è accompagnato dal vicequestore Gianni De Gennaro allora capo della Criminal Poll Don Masino gli dice avrei due cose da dire a lei e al dottor Falcone e poco dopo comincia a collaborare e Bucetta decide di fare questa scelta di collaborare con la giustizia scelta indubbiamente è stata fatta non per nobili motivi anzi tutt'altro per consumare le sue vendette non potendolo fare secondo il codice mafioso cioè non potendo rispondere al fuoco con il fuoco perché lui era perdente tutti i suoi accoliti non sono stati stati ammazzati o quasi tutti lui sceglie questa originale strada Bucetta dice Giovanni Falcone è stato per noi come un professore di lingua straniera uno per esempio che ti permette di andare a parlare con i turchi passando dai gesti alla parola ci saranno altri pentiti forse più importanti che riferiranno notizie più concrete però Bucetta fornisce una chiave di lettura essenziale dice Falcone un linguaggio un codice il metodo per valutare quelle notizie con Bucetta dice Falcone per la prima volta ci siamo accostati sull'oro del precipizio dove nessuno si era voluto avventurare la famiglia prende il nome del rione dove si trova questa famiglia nella città di Palermo nella città di Palermo per quanto riguarda la provincia di Palermo la famiglia prende il nome del paese dove questa è al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono dette da noi o venivano dette da noi perché io non ci sono più commissione capi mandamenti questi capi mandamenti abbracciavano tre famiglie avevano fra di loro tre famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione capo della commissione era nel 1980 il signor greco Michele a Giovanni Falcone ai magistrati del pool agli investigatori che ne vagliano le informazioni Don Masino Buscetta parla delle regole della struttura della funzione di cosa nostra nella società siciliana e italiana non si commette omicidio in Sicilia senza che la cupola che non fu io non sono stato io che ho inventato la parola cupola ma sono stati i giornali la commissione si riunisce e stabilisce quello che si farà nel futuro o quello che si farà l'indomani senza il permesso della commissione non si fa niente la mafia parla e finalmente ha trovato qualcuno che la ascolta Don Masino non è l'unico che in quei primi anni 80 decide di collaborare di pentirsi anche se nel senso meno profondo e meno religioso del termine uno dei primissimi indici di riconoscimento della serietà di approccio del pentito è il fatto che gli per così dire voli basso non le manifestazioni un po' retoriche di presunto pentimento morale non hanno alcun reale significato conoscendo la loro psicologia il fatto che non rinneghino il loro passato è un indice positivo di serietà della collaborazione perché si capisce che hanno deciso di stabilire un rapporto non ingannevole con il proprio interlocutore e poi soprattutto il fatto che volino basso cioè che comincino a parlare di fatti commessi personalmente indicando luoghi circostanze complicità riscontrabili Salvatore Contorno detto Totuccio è un membro della famiglia della borgata di Palermo di Santa Maria di Gesù un uomo di Stefano Bontade quando Bontade viene ammazzato dai corleonesi di Totò Riina Totuccio Contorno sa che prima o poi toccherà a lui e infatti si salva da un attentato nel giugno del 1981 allora Contorno si fa avvicinare dal vicequestore Nini Cassarà che dirige la squadra mobile di Palermo e quando viene arrestato chiede di poter parlare con Dommasino Buscetta c'è ancora bisogno di una benedizione di un permesso di qualcosa per infrangere quelle regole che Cosa Nostra ha fissato nel carattere dei suoi affiliati Buscetta gli dice Cosa Nostra è finita Totuccio puoi parlare e Totuccio Contorno inizia a collaborare Anche Francesco Marino Mannoia è un mafioso di Santa Maria di Gesù e raffina droga per Stefano Bontate quando Bontate viene ucciso passa con i Corleonesi e nel 1986 viene arrestato quando i Corleonesi gli ammazzano il fratello che fa parte della famiglia rivale di Ciaculli Mannoia decide di collaborare anche se i Corleonesi gli ammazzano nello stesso giorno la zia la sorella e la madre Antonino Calderone invece è un mafioso di Catania che è divisa tra le famiglie alleate di Stefano Bontate come la sua e quelle alleate dei Corleonesi come quella di Nitto Santa Paola nella guerra di mafia Calderone perde un fratello e quando viene arrestato e capisce che presto verrà ucciso anche lui decide di collaborare non mi dà fastidio essere un pentito perché sono veramente pentito di quello che ho fatto io sono veramente pentito io me ne sono andato dalla Sicilia e non avevo mai lavorato manualmente sì mi sono mi sono messo a lavorare io e mia moglie manualmente a fare proprio l'amore più umile e mi sentivo felice mi sentivo un uomo rinato perché non avevo più quella cappa quel peso la notte non dormivo dovevo dormire col telefono staccato perché da un momento all'altro se mi si telefonava io dovevo uscire dovevo andare con loro a fare qualche cosa sono tanti i mafiosi che parlano in quegli anni per non essere uccisi per non restare in carcere per vendicarsi sono quasi 400 non è facile perché non esiste una vera e propria legge sul cosiddetto pentitismo di mafia le norme che usano i magistrati sono ancora quelle della legge cossiga del febbraio del 1980 nata per gestire i pentiti del terrorismo degli anni di piombo e ci sono anche brutte esperienze come quelle che riguardano la camorra napoletana che di fronte alla decadenza della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo di fronte alla prospettiva di essere ammazzati o di finire in prigione produce in due anni dal 1982 al 1984 tantissimi pentiti i primi collaboratori di giustizia si erano manifestati con riferimento a fatti di camorra e purtroppo forse anche per una mancanza di esperienza per certi versi anche comprensibili questi pentiti raccontavano delle cose insomma che non stavano vencendo in terra ripeto cito il caso Tortola perché è quello più noto mediaticamente anche per rivolgere un rispettoso ricordo a questa vittima vela dell'ingiustizia e poi ci sono le polemiche sono in molti a chiedersi perché lo Stato dovrebbe trattare con i mafiosi perché dovrebbe concedergli sconti di pena e premi in denaro quando invece dovrebbero stare in galera per quello che hanno fatto e perché lo Stato dovrebbe rendersi complice delle loro vendette attaccando e arrestando quelli che i mafiosi indicano vendette criminali contro altri criminali in che senso lei considera pericoloso il pentitismo perché ad un certo punto il pentitismo potrà dare dei frutti curiosi per cui lo Stato si può anche trovare alleato di una determinata cosca contro Alcia o Alce Coschi e lo stesso pericolo che già ravvisavano nel pentitismo delle Brigate Rosse e che anche se ha dato dei frutti sul piano poliziesco apprezzabile non mi pare che sia stata lasciata giusta perché c'è libera gente che ha ammazzato e c'è dentro gente che non ha ammazzato allora il problema è questo il collaboratore giustizia è una realtà di fronte alla quale lo Stato è per lui chi lo rappresenta in quel caso in 1987 i giudici della Corte d'Assise di Palermo si riuniscono per decidere con la benedizione di Michele Greco detto il Papa della Mafia io desidero farvi un augurio io vi auguro la pace signor Presidente a tutti voi io auguro la pace perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza è quella che figuriamo anche noi 365 condanne 2665 anni di carcere 19 ergastoni sentenze in gran parte confermate dalla Corte di Cassazione nel 1992 se questa volta non è finita con le solite assoluzioni per insufficienza di prove come era accaduto prima con quasi tutti i processi di mafia in gran parte è perché chi aveva parlato prima con Carabinieri e Polizia stava anche al processo dopo a confermare le accuse il maxiprocesso si è concluso con una serie di condanne definitive che Cosa Nostra e Totorina non vogliono accettare i corleonesi regiscono ammazzando amici e nemici con una logica terrorista di tipo stragista bombe a Milano Firenze e Roma la strage di Capaci la strage di Via D'Amelio lo Stato reagisce con l'attività investigativa e con le leggi come il 41 bis il carcere duro che isola i mafiosi limitandone i contatti anche con i familiari chi la vince questa guerra perché ormai è di questo che si tratta una guerra senza limiti e senza regole i corleonesi di Totorina di Bernardo Provenzano ammazzano senza pietà uomini donne e bambini sulla base di un sospetto o di un istinto chi sarà la prossima vittima Gaspare Mutolo è un pezzo grosso Asparino come lo chiamano gli amici è un mafioso della famiglia di Partanna Mondello di Saro Ricobono ma soprattutto è l'autista di fiducia e i guardaspalle di Totorina verso la fine del 74 mi chiama Salvatore Zina mi invia del Corsa dei Mille in un garage che aveva un certo Filippo Marchese e mi dice la cosa dice Gaspare ti dice te l'hanno comunicato che sì sì mi hanno comunicato che io sono a disposizione per qualsiasi cosa vabbè traffici di droga con il Medio Oriente attraverso bagagli di turisti cinesi compiacenti mai controllati partecipazioni negli appalti di palazzi e villette a Mondello sequestra di persona nel nord Italia Asparino fa un sacco di soldi era l'era dello champagne perché quando io andavo nel ristorante con delle persone quasi sempre donne diciamo pagavo sempre io e a tavola non si menteva niente non si menteva né vino né acqua ma si menteva soltanto champagne ma non ci sono soltanto lo champagne e i soldi nella vita di Asparino essere un pezzo grosso di Cosa Nostra essere il braccio destro di Saro Riccobono e l'autista di Dottori Ina significa saper usare le armi essere un corleonese significa saper uccidere farlo bene e senza pensarci due volte fare un omicidio non è dopo la prima volta magari uno si può sentire un pochettino amareggiato non è però dopo uno ci prende il callo e non fa niente quello che si rimane male ci sono persone magari che ci viene dirigita e quando si strangola a una persona perché automaticamente uno vede attimo per attimo quella persona che va morendo insomma e i sintomi che dà ma io fortunatamente diciamo gli omicidi che ho fatto sono stati prima che diversi con con le armi da fuoco insomma soltanto uno con il coltello un certo l'era in cui l'era in cui diciamo dopo entra Salvatore Irrine e sperimentano l'acido cioè è ancora più brutto perché si vedono alle persone che vanno scomparendo piano piano ma prima ancora dell'acido e si usavano diciamo o delle porte briglie di attivo che vuole arrostire la carne perché il corpo umano cioè con il fuoco si brucia rimangono soltanto due due cose che non si bruciano credo che sia la milza è un'altra cosa il rognone insomma poi Gaspari Mutolo finisce in carcere condannato nel maxiprocesso e da lì assiste a tutta quella mattanza morti ammazzati stragi vendette trasversali senza limiti e senza regole viene a sapere che forse verrà ammazzato anche lui quando uscirà per decorrenza termini mi mette abbandonato a me questo pensiero che io potessi collaborare però sono così mia moglie capisce ma scusa ma questi polizzotti che infatti viene a con loro e mi dice ma cosa stai combinando non ti preoccupare tu pensi io faccio qualche cosa male per noi io devo fare qualche cosa non si può continuare così Salvatore Cancemi invece membro della commissione di Cosa Nostra si pente dopo aver partecipato ad una riunione in cui Totorina e Leuluca Bagarella elencano una lunga fila di nomi di persone da eliminare a Cancemi scappa detto tra sé ma come proprio tutti li dobbiamo ammazzare Totorina e Leuluca Bagarella si scambiano un'occhiata senza dire niente è solo una frazione di secondo ma Cancemi sa che da quel momento è morto perché ha espresso un dissenso e adesso penseranno che di lui non ci si può più fidare così finita la riunione Salvatore Cancemi va direttamente dai carabinieri a collaborare quello che ha mancato in noi è completamente la fiducia verso la costituzione di Cosa Nostra che Cosa Nostra non era più una mafia dignitosa rispettata ma era una mafia soltanto ai tradimenti verso i propri compatti la mafia parla è molto il numero di persone che decidono di collaborare e che vengono da Cosa Nostra dall'Andrangheta dalla Sacra Corona Unita dalla Camorra e anche da altre organizzazioni come per esempio la mafia del Brenta arriva ad un massimo di 1240 in quegli anni 428 vengono da Cosa Nostra i pentiti i pentiti devono portare il risconcio signor Presidente i pentiti non devono dire oppure lei mi viene a dire a me ma è più di uno che lo dice signor Presidente ma che cos'è più di uno che sono tutte a braccio e che sono gestite la prima legge organica che stende i benefici della collaborazione anche ai reati del 416 bis cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso è del 1991 con la legge 82 del 1991 per chi parla fornisce notizie sull'organizzazione e i suoi delitti ed evita che ne vengano compiuti altri c'è l'esclusione dell'ergastolo forti riduzioni di pena programmi di protezione per collaboranti e parenti premi in denaro e un assegno di mantenimento è una legge che suscita da subito molte polemiche continuo a dire non mi sta bene perché noi siamo vittime e loro sono carnifici potranno essere collaboratori come volete servono non ho mai detto il contrario ma questa legge va cambiata sono in molti a non approvare la legge per esempio perché dare soldi a volte molti soldi a dei criminali a delle persone che hanno passato la loro vita a commettere reati ad ammazzare la gente e poi perché non mettere in galera chi se lo merita uno ruba ammazza mette le bombe poi si pente ed è come se non fosse successo niente anzi qualche volta quando esce ricomincia a commettere reati faccio l'esempio noi abbiamo avuto Di Matteo Balduccio Di Maggio contorno nel periodo 89 cioè abbiamo avuto collaboratori che poi abbiamo pagati protetti allo Stato eccetera che poi sono venuti sul territorio siciliano a commettere nuovamente reati sotto protezione Balduccio Di Maggio per esempio mentre è sottoposto a programma di protezione organizza attentati contro i suoi ex rivali di San Giuseppe Iato cerca di taglieggiare un imprenditore toscano e cerca anche di mettere in piedi un traffico di stupefacenti Salvatore Contorno viene denunciato per ricettazione e spaccio dei stupefacenti mentre Gioacchino La Barbera che aveva collaborato sulla strage di Capaci alla quale aveva partecipato lui stesso viene ritrovato con un quantitativo di esplosivo che vorrebbe utilizzare contro i suoi ex avversari pentiti con licenza di uccidere così li chiama la stampa contraria alla legge sui pentiti gli incentivi diventero eccessivi eccessivi venivano subito scarcerati venivano protetti scortati gli veniva dato un contributo economico certe volte notevole si muovevano con grandissima libertà al di fuori del carcere questo fatto disgustò alcune vittime della mafia che si trovarono in situazioni imbarazzanti si ritrovarono al cinema ascoltati si è dovuti tranquillamente a guardarsi il film gente che un anno prima o due anni prima aveva ucciso o sciolto nell'acido dei loro parenti stretti si approfittò di questi fatti di errori di superficialità di approssimazione nella gestione dei pentiti per montare una grande campagna contraria cosa nostra intanto continua a parlare anche i pezzi grossi anche i boss anche i corleonesi parla Giovanni Brusca boss di San Giuseppe Iato quello che prende il posto di Totò Riina a capo dei corleonesi dopo che Riina viene arrestato l'uomo che spinge il pulsante del telecomando che fa saltare in aria il giudice Giovanni Falcone e quelli che viaggiano con lui quando lo arrestano dopo una serie di ritrattazioni e tentativi di depistaggio collabora e si accusa tra le altre cose di 150 omicidi ordinati o commessi personalmente parla Antonino Giuffré boss del mandamento di Caccamo arricchitosi con gli appalti miliardari della zona dei Termini Merese braccio destro di Bernardo Provenzano i mafiosi parlano raccontano stragi omicidi estorsioni fanno i nomi di insospettabili e incensurati uomini di mafia svelano cuvi e nascondigli e portano alla cattura dei latitanti più ricercati come lo stesso Totò Riina parlano anche di vecchi misteri dei misteri italiani come la morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro la morte del banchiere Roberto Calvi parlano di episodi della strategia della tensione come il golpe borghese la seconda ondata di Pentiti parla anche di società civile di collusione di contatti parla di politica prima non l'aveva fatto certo Leonardo Vitale Giuseppe Di Cristina e prima ancora Salvatore D'Amico avevano accennato a certe cose però quelli erano altri tempi e loro stavano ancora a metà tra un collaboratore di giustizia e un confidente di polizia e anche dopo quando erano arrivati i pentiti quando era arrivato Buscetta certi argomenti erano rimasti fuori dalla porta del magistrato Don Masino lo aveva detto chiaramente a Giovanni Falcone quando gli aveva chiesto dei contatti tra Cosa Nostra e la politica Giovanni Falcone poverino che in pace non ho mai parlato io non ho remore non avrei avuto remore a parlare di politica se sarebbero stati suffragati da prove adesso però le cose sono diverse adesso sono gli anni 90 ed è caduto il muro di Berlino la situazione politica internazionale è cambiata sta cambiando anche quella nazionale con la tempesta di Mani Pulite sta cambiando tutto eccolo stanno tirando di tutto e poi ci sono state le stragi di mafia la politica terroristica dei Corleonesi Cosa Nostra non ha più le coperture politiche di una volta ne sta cercando altre forse ne ha già trovate ma non è più come un tempo adesso si può parlare anche di politica dice Don Masino Buscetta e infatti il primo a parlarne è lui i politici sono stati il condimento della mafia perché senza i politici difficilmente avrebbero potuto succedere tutte le cose che sono successe nella nostra terra nella mia terra sono tanti pentiti che parlano di politica dopo Tommaso Buscetta fanno nome importanti della prima e della seconda repubblica tra i quali il più grosso sicuramente è quello di Giulio Andreotti ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato la reazione la reazione è arrivata quando gli interessi politici colpiti si sono coalizzati hanno approfittato di errori nella gestione dei pentiti errori che sono consistiti in privilegi eccessivi dati ai pentiti incentivi assolutamente sproporzionati nel febbraio del 2001 dopo un lungo iter parlamentare viene approvata a larga maggioranza la nuova legge sui pentiti la legge mantiene le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento ma modifica la legge precedente in alcuni punti il pentito dovrà comunque scontare un quarto della pena la sua protezione durerà soltanto finché durerà l'effettivo stato di pericolo non importa se i processi sono ancora in corso accederà ai benefici di legge soltanto dopo che la sua collaborazione verrà ritenuta valida e inedita il pentito avrà 180 giorni per raccontare tutto quello che sa l'idea in sé astrettamente ha una sua logica però ecco e qui stanno i difetti non tiene affatto conto della realtà in cui ci muoviamo se un pentito e tutti i pentiti importanti sono così vengono da decenni in cui il commettere delitti omicidi estorsioni l'intrattenere rapporti di spicciola o meno spicciola o più alta corruzione o rapporti di scambio con esponenti della pubblica amministrazione costituiva il loro lavoro quotidiano com'è possibile credere che 40 anni di questo vissuto quotidiano possano essere ricordati e compiutamente riferiti nell'arco di 180 giorni altra modifica la legge il pentito è obbligato a dichiarare tutti i beni in suo possesso sia quelli di provenienza illecita che quelli di provenienza lecita lo Stato in via cautelativa sequestra tutto norme necessarie per ristabilire la giustizia e ridurre gli eccessi dice qualcuno norme eccessive che di fatto scoraggiano la collaborazione dice qualcun altro così si eliminano gli sprechi così si toglie dalle mani dei magistrati un'arma importante giuste o sbagliate che siano le norme eccessive o necessarie negli anni successivi il numero dei collaboratori di giustizia dei pentiti non cresce più ma anzi cala tanto che sotto il programma di protezione dei 428 pentiti di Cosa Nostra del 1996 ne restano soltanto 237 nel 2007 piano piano Cosa Nostra smette di parlare se i mafiosi pensano di appartenere ad una struttura che sta perdendo allora le collaborazioni si moltiplicano se pensano di appartenere ad una struttura che sebbene loro stiano in carcere può tutelargli meglio dello Stato e allora non si pentono Cosa Nostra parla e racconta di una quotidianità che è ancora più inquietante e pericolosa degli omicidi e delle stragi che quando avvengono ammazzano un sacco di gente un sacco di gente innocente ma testimoniano comunque della debolezza di un sistema la vera forza di Cosa Nostra è questo infilarsi in modo silenzioso e naturale ambientale nella vita di tutti i giorni come un virus come un gas la mafiosità avvelena tutto soprattutto la politica io la mafia l'ho vissuta fin da bambino nel senso che Villa Balte è un paese assolutamente immerso in problemi di male mafia storicamente molto fortemente connotato con una presenza di mafia forte Francesco Campanella per esempio è un ragazzo di 17 anni che vuole fare politica è intelligente brillante ambizioso vuole fare carriera vuole diventare qualcuno e allora si iscrive ai giovani della DC che in quegli anni siamo all'inizio degli anni 90 ma più o meno da sempre a Villa Bate che è il paese di Francesco sono il partito di maggioranza però a Villa Bate e anche nella famiglia Campanella c'è anche qualcos'altro la mia famiglia la mia persona è una famiglia onesta mio papà mia mamma anche i miei nonni sia materni che paterni erano abbastanza come dire lontani da questo ambiente seppur poi come in un paese ci si conosce tutti sia imparentati avevamo comunque vicinanze con persone che erano molto vicine ad ambienti mafiosi fa carriera in fretta Francesco Campanella entra nella corrente dell'allora ministro Calogero Mannino Totò Cuffaro lo nomina responsabile della DC giovanile di Villa Bate ci sono le elezioni comunali e Francesco Campanella si candida in una lista civica collegata al suo partito ricordo che venne mio cugino Francesco Cottone figlio di uno degli avvocati Cottone e mi disse dice ma tu hai chiesto il permesso per candidarti e io rimasi anche lì stranito erano le prime esperienze ho detto ma il permesso è che io sono il segretario del momento giovanile mi spetta il diritto andare in lista mi voglio candidare vado in lista no dice tu hai chiesto il permesso alla mafia Francesco Campanella chiede permesso alla mafia e lo tiene facilmente i suoi zii mafiosi sono pezzi grossi la sua famiglia ha legame con il greco Michele Greco il papa di Cosa Nostra Francesco fa carriera diventa presidente del consiglio comunale dove siedono anche altri come lui che hanno chiesto il permesso alla mafia e che adesso in cambio fanno favori stanziano soldi firmano delibere che sono quelle che vuole Cosa Nostra nell'interesse di Cosa Nostra e non nell'interesse dei cittadini io sono diventato mafioso senza accorgermi e credo che in Sicilia sono tantissime le persone che diventano mafiose senza accorgersene perché è un susseguirsi di eventi così veloce soprattutto nell'ambito della politica e dell'imprenditoria che nel giro di pochi anni tu ti svegli e sei un mafioso e non lo sai sai quando io ho avuto la percezione di essere diventato un mafioso quando una volta deciso di collaborare mi sono seduto davanti ai magistrati e il dottor Pignatone mi fece la prima domanda e mi disse ma lei è un uomo d'onore ed è lì che io ebbi una titubanza a rispondere aspettai un paio di minuti e dissi e ho risposto come dire avendo in quel distante la consapevolezza di essere un mafioso perché ho detto se lei per uomo d'onore intende una persona affiliata quindi ritualmente affiliata così come ho letto nei giornali la mia risposta è no io non sono stato affiliato non ho avuto nessun rito di affiliazione se lei per uomo d'onore mafioso intende una persona che ha vissuto in questo contesto e con il mio agire quindi con i fatti che ho messo in essere nel mondo politico imprenditoriale e non ho agevolato l'organizzazione mafiosa e quindi sono stato parte della famiglia mafiosa di Villabate devo dire sì e lì in quegli istanti mi sono reso conto di essere un mafioso è un mafioso Francesco Campanella e come tale esegue gli ordini della mafia anche più particolari come nel 2001 quando si fa dare da un funzionario del comune di Villabate un documento di identità che eventualmente dovrà essere usato da un latitante che deve andare a farsi curare all'estero in Francia perché è malato quel latitante ma soprattutto è Bernardo Provenzano che allora è il capo di Cosa Nostra e non può certo muoversi liberamente poi un giorno arriva la legge e Francesco viene arrestato in quel momento c'è stato uno strappo mi sono reso conto che stava crollando tutto e quindi hai il tempo per pensare e capisci che veramente hai fatto le cose drammatiche che hai bruciato la tua vita che non c'è nulla di positivo che potrà avvenire in futuro e quindi comincia un periodo un percorso interiore che va da gennaio a settembre non è un giorno sono nove mesi e ti assicuro che nove mesi non passano mai perché ogni minuto è pesantissimo perché tu ogni minuto rivivi tutto quello che hai fatto in 25 in 30 anni della tua vita la mafia parla Cosa Nostra parla racconta la quotidianità del delitto e della corruzione i suoi rapporti con la società e con la politica però i pentiti Cosa Nostra che parla raccontano anche un'altra cosa raccontano le meschinità del sistema e dei suoi personaggi raccontano di un onore che c'è soltanto nei riti di iniziazione di uomini d'onore che in realtà sono uomini del disonore come le definisce il pentito Antonino Calderone esaltano una storia di amicizia di lealtà di valore e di virtù e poi invece raccontano una storia fatta di sospetti e di tradimenti di odi e di paure i pentiti raccontano i boss e parlano delle loro manie dei loro tic e dei loro viti è difficile dopo tutto quello che hai fatto tu parlare di te io posso dire oggi sono in grazia di Dio perché poi qualcuno può dire tutti quelli che sono morti i genitori i medicenti però se noi non togliamo queste persone che fanno queste cose si fa più fatica cioè se io non facevo questa scelta qui io ho due figli maschi questi per forza di cose entravano a far parte di cosa nostra a fare i mafiosi non si scappava mica cosa nostra parla e chi la sa ascoltare capisce che aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che la mafia è un fatto umano che ha un inizio una metà e una fine che ha un inizio Grazie a tutti. Grazie a tutti.